Ciao a tutti, siamo qua alla fortezza di Castelfranco, uno dei luoghi più identificativi di Finale Ligure per il press camp di Bosch Bike System dedicato al nuovo motore. Performance Line 6, quarta generazione, versione Race sui sentieri della Catrazoppa, il mitico spot del Finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quasi sgomma. Grazie a tutti. 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 al 400%. Noi l'abbiamo provata sui sentieri che ho al pio intorno alla capra zoppa, quindi l'anello superiore e poi l'X-Man. Abbiamo provato in alcuni anelli di lunghezza più ridotta, in salita tecnica, non così ripida, però con molti gradoni rocciosi e molte curve strette, in modo da capire come appunto in una competizione in mountain biker, questo posso essere un facilitatore, quindi dare lo spunto e dare quel sostegno per guadagnare i secondi, ma non solo, anche per bilanciare lo sforzo applicato sulle pedivelle. Le impressioni in questa mezza giornata sulla capra zoppa sono positive, soprattutto per la corposità dell'assistenza. Non si percepisce solo un picco di supporto, quindi un motore che dà la spinta con un leggero trascinamento, quindi per superare le situazioni più scabrose, ma anche e soprattutto per sostenere il biker nella sua azione. Le percepci azioni, come detto, sono più che positive, ora non vediamo l'ora che questa Performance 9X di quarta generazione in versione Race arrivi sul mercato in alcune mountain bike di alcune marche selezionate, almeno per il primo anno, infatti per Bosch questa sarà una versione limited edition. Questo video fa riferimento all'articolo in cui trovate tutte le informazioni, tutti i dati e il nostro primo giudizio sull'ultima proposta di Bosch eBikesystem. Ciao a tutti!